E Gillette Gillette presenta Storie del nostro tempo Questa è una storia vera Una storia del nostro tempo Inizia in una trattoria di campagna E un giovane cameriere premuroso e simpatico Ne è il protagonista Ha cominciato la sua carriera in un modo del tutto normale Ma anche in queste umili mansioni Dimostra la sua buona volontà e spirito di sacrificio Così arrivano gli avanzamenti Dapprima cameriere in una trattoria più importante Dove già gli si palesa l'utilità di studiare le lingue straniere Poi primo cameriere in un ristorante molto conosciuto e molto apprezzato sul lago I suoi modi pazienti e affabili Il suo stile non spuggono all'occhio esperto di un intenditore Il direttore di un notissimo ristorante cittadino E alla sensibilità professionale del nostro cameriere Non sfugge l'importanza del cliente Che ha avuto la buona fortuna di poter servire Tutto conferma la prima buona impressione Il direttore del ristorante milanese ha scoperto il capo cameriere per il suo locale Per lui ha inizi una ben più brillante carriera La sua preparazione e il suo ottimismo hanno avuto il giusto premio È infatti la buona volontà che prepara il successo Ma a questo predispone un volto che ispira fiducia e irradia simpatia È per questo che per l'uomo moderno la giornata comincia con Gillette Ed ecco il nuovo rasoio Gillette Giromatic Nella sua elegante confezione con le nuove lame Gillette Blue Extra Costa soltanto 500 lire Con un giro si apre Si inserisce la lama dal dispenser E con un giro si chiude Esso vi assicura una rasatura piacevole Perfetta, pulita Acquistate subito il nuovo rasoio Gillette Giromatic Usate la nuova lama Gillette Blue Extra Fantastica Vi rade e non ve ne accorgete Vi rade e non ve ne accorgete